Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere il processo passo per passo di un fotoritocco per quanto riguarda un prodotto beauty di make up. Questo è il prodotto che andrò a ritoccare e la prima cosa da fare ovviamente è sicuramente effettuare uno scontorno dell'immagine. Ovviamente avvaliamoci dello strumento penna che si richiama tramite P da tastiera e proseguo con il tracciare semplicemente delle linee che appunto mi permettano di scontornare questo prodotto. Iniziamo già con la fase di scontorno a pulire quelli che sono i dettagli che possiamo tagliare fuori. Ad esempio in questo caso dovremmo stare a correggere poi dopo dato che c'è l'etichetta quindi semplicemente voi cercate di ritagliare fuori tutte le imperfezioni già semplicemente con lo strumento penna. Poi tutto il resto lo colleggeremo dopo. Non so se praticamente sabato farò una live sul canale per quanto riguarda un fotoritocco beauty. In questo periodo mi sto focalizzando un po' di più su quello che è il ritocco perché non ho moltissimo tempo per andare a registrare dei video e quindi diciamo che con il ritocco vado un po' più veloce. Una volta chiuso il tracciato vado a crearmi una selezione. Posso sia usare lo strumento selezione qui in alto oppure semplicemente premere cmd o ctrl invio. Questo va a creare una selezione con raggio di sfumatura 0 quindi dobbiamo andare a sfocarla leggermente. Premiamo shift f6 da tastiera che ci avvia lo strumento sfuma selezione. Diamo un 0,6 e poi un cmd o ctrl j. In questo caso va più che bene effettuare una copia e andiamo a limpire di bianco per il momento quello che è lo sfondo. Vedete ovviamente che sul retro è riflessa una parte scura perché appunto andrà su quello che è un fondale nero. Vi faccio vedere infatti. Vedete che è già più integrato siccome ovviamente è stato scattato su un grigio molto scuro quindi in caduta di luce. Ovviamente ho elaborato questa fotografia semplicemente in maniera molto flat proprio perché quando vado a eseguire dei foto inserimenti ma soprattutto per una questione di flusso di lavoro io tengo sempre un po' le foto un po' più flat poi se voglio aumentare il contrasto posso sempre andare a farlo. Partirei innanzitutto col correggere quelle che sono le imperfezioni più evidenti possiamo avvalerci tranquillamente dello strumento pennello correttivo al volo ma se vogliamo seguire un flusso di lavoro diciamo più preciso possiamo anche utilizzare le frequenze che forse in questo caso funzioneranno sicuramente meglio ma siccome vogliamo rendere questo prodotto perfettamente pulito quindi diciamo che non ci sarà nemmeno necessario andare a pulire diciamo campionando altri punti bensì potremmo letteralmente o diciamo pennellare al di sopra in questo caso oppure in questo caso diciamo è inutile stare a fare questo vedremo dopo delle vere alternative appunto per fare queste pulizie. Quindi noi possiamo iniziare a rimuovere diciamo le parti più grandi o le parti che diciamo non siamo sicuri andremo a rimuovere tramite altri strumenti e poi semplicemente una volta rimosse tutte farò un attimo questa operazione magari con un piccolo taglio perché altrimenti diciamo sarà quanto noioso vedere tutta questa operazione. Quindi ho fatto una piccola pulizia adesso posso avvalermi del filtro polvere e graffi vi ricordo che c'è comunque la mia azione che trovate in tutto il pacchetto azioni qui sotto in descrizione e appunto andando ad abbassare un pochino quella che è la soglia e il raggio guardate da un'anteprima possiamo andare a pulire ulteriormente adesso seleziono lo strumento pennello storia da tastiera e vado semplicemente a pulirmi la polvere lì dove appunto non l'ho rimossa io manualmente. Ovviamente da altre porzioni dell'immagine vedremo dopo come andare ad eseguire l'operazione. Ovviamente i ritocchi di queste immagini sono sempre ritocchi super perfetti perché diciamo sono foto che possiamo utilizzare anche come portfolio ma in realtà appunto per i miei clienti offrono sempre questi servizi di super post produzione quindi diciamo il prodotto viene consegnato perfetto e vedete quindi che sto semplicemente andando a pulire tutte le imperfezioni all'interno dell'immagine. Quindi una volta effettuata una prima pulizia guardate già come è bello pulito il prodotto possiamo avvalerci per altre tipologie di dettagli dell'azione che ho creato io ma prima di fare questo voglio andare a rimuovere un attimo quelle che sono diciamo queste lineette di chiusura del tappo quindi semplicemente vado a crearmi un attimo una selezione con lo strumento penna qui in alto oppure posso procedere a selezionare diciamo il flusso di lavoro dipende anche da voi però vi faccio vedere come agirei io. Prendo il pennello miscela colore e semplicemente vado a portare tutto diciamo il contenuto verso il basso. Guardate quindi come molto velocemente sto facendo questa cosa. Non vi preoccupate se scompare diciamo anche la texture o questa sorta di grana che c'è perché possiamo sempre aggiungerla dopo quindi per questo vi dicevo su questi oggetti così non è necessario appunto stare ogni volta ad eseguire migliaia di operazioni per comunque mantenere la texture eccetera. Vedete quindi faccio la stessa cosa anche dal basso per avere questa linea bella pulita. Potrei fare la stessa cosa anche qui in basso oppure dopo utilizzare l'azione che già conoscete. Chi mi segue sicuramente la utilizzerà e l'avrà già scaricata. Ovviamente sto lavorando su un livello unico perché appunto sto facendo delle modifiche che non andrò a riprendere un giorno ma possiamo lavorare. Ho creato un nuovo livello appunto per far vedere anche su un livello separato così appunto se poi vogliamo andare a non so riprendere la grana non so per quale motivo però appunto io vi faccio vedere le cose come si possono fare appunto. Vediamo che diciamo appunto possiamo effettuare adesso una pulizia dei bordi tramite l'azione clean edges. Usiamo in questo caso la versione hard così agisce un po' più forte. Lanciamo l'azione e poi semplicemente con il pennello di bianco con opacità 100% guardate lanciamo l'azione solamente sui bordi e questo ci va a garantire comunque sia un'enfatizzazione dei bordi stessi ma soprattutto una pulizia e una linearità appunto delle linee presenti all'interno dell'immagine. Fate attenzione guardate in questo caso vado a trocare perché i dettagli non sono molto presenti però qui vedete che funziona molto bene anche qui in alto. Qui nella parte laterale posso comunque andare ad utilizzarla ma siccome queste linee non sono perfettamente allineate in realtà vedete le allinea ma con una curva vado a fare un'altra operazione per garantirmi appunto una pulizia migliore mentre qui in basso posso sempre andare ad utilizzarla. Posso andare ad unirmi i livelli perché vi ripeto non è necessario in questo caso potete mantenere magari il livello origine che comunque può essere giusto d'aiuto per vedere un prima e dopo però appunto non è necessario quindi semplicemente sto lavorando su un livello unico. Adesso cosa posso fare? Semplicemente prendiamoci una porzione di questa parte lineare andiamo a eseguire un command o ctrl j e cosa faccio? Me la vado ad allungare da sopra fino a sotto semplicemente questo mi aiuterà diciamo a pulire e perfezionare questa linea. Ovviamente non devo trascinarla fino in basso è semplicemente perché appunto andando poi vedete a cancellare la parte che non mi interessa anche nella parte qui in basso. Quindi vedete così. Guardate quindi come niente ho pulito praticamente il bordino. Poi semplicemente posso ricaricarmi la selezione di base e andare a cancellare l'esterno che non mi interessa. Quindi vedete semplicemente ho rimpiazzato il bordino e vedete qui nella parte in alto come vado a recuperare la linea ed è tutta diciamo più dritta. Faccio la stessa cosa dall'altra parte oppure posso sempre procedere con altre metodologie. Crea un nuovo livello, prendo il pennello miscela colori, faccio questa cosa e poi semplicemente vado a cancellare qui in alto. Riprendo la selezione con command o ctrl clic sul livello così cancello dal livello soprastante tutta la zona esterna che non mi interessa. Quindi vedete stiamo pulendo piano piano il prodotto. Per il momento sto sempre legando i livelli perché appunto sono modifiche che una volta fatte non andremo a eliminare o appunto a rimuovere. Adesso vedete che comunque la scritta non è perfetta quindi cosa posso fare? Innanzitutto posso andarmi a creare una selezione di tutto questo testo così vediamo se riusciamo tramite la bacchetta magica a definirlo oppure possiamo vedere se lo strumento selezione rapida funziona un po' meglio. Magari selezioniamo la zona esterna che forse è più facile da selezionare. Impostiamo un valore di 15 una media di 3x3 quindi guardate è più facile selezionarlo perché ovviamente sul nero essendo presente questa grana ci rende tutto un po' più complicato quindi semplicemente lavoriamo sulla zona esterna e poi andiamo a invertire la selezione. Cosa voglio fare adesso? Voglio crearmi un livello separato di questo testo che appunto mi andrà a garantire una pulizia generale di tutto questo testo appunto. Potrei stare a fare la stessa cosa anche con tutte queste scritte ma magari lo facciamo in un secondo momento. Adesso mi inverto la selezione la vado giusto un attimo ad arrotondare magari un pixel e la vado anche a sfumare di 0,6 e creo un nuovo livello quindi guardate ho semplicemente il testo. Questo cosa mi consentirà. Innanzitutto andiamoci a creare una copia solamente della parte qui in basso quindi semplicemente guardate abbiamo il livello qui in basso. Ci sono ovviamente diversi modi anche di fare questa cosa se faccio un comando o control click adesso posso prendere il pennello e andare con un colore un pochino più scuro rispetto a quello che è l'originale della foto quando semplicemente guardate a rendere tutto un po' più vettoriale e tutto un po' più pulito. Devo fare la stessa cosa anche qui in basso però appunto siccome è tutto un po' più lineare quindi un testo molto più definito qui già la nitidezza potrà abbastare oppure uno sfocatura superficie. Adesso devo fare la stessa cosa semplicemente su questa etichetta quindi vedete sto selezionando solo l'etichetta. Posso andare innanzitutto ad escludermi tutte le lettere. Vediamo se riusciamo a fare una selezione in questo modo se no possiamo lavorare anche con un blend if. Ovviamente l'etichetta non è perfetta quindi diciamo è un po' complicato andare a fare questa lavorazione. Sicuramente il filtro sfocatura sfocatura superficie può funzionare in questo caso. Vediamo se riusciamo a giocare con dei valori. Vedete già una pulizia del genere rende l'etichetta molto molto più pulita e questo ci consentirà poi di andare ad eseguire anche una selezione molto più precisa. Quindi guardate adesso se uso la bacchetta magica riesco sicuramente a selezionare meglio. Ovviamente ci sarà del disturbo come vedete il testo non è perfetto e quindi semplicemente poi potremo ovviare se il cliente richiede diciamo effettuando una selezione manuale ma ci vorrà davvero molto tempo per andare a pulire questa etichetta in questo modo. Fatto ciò quindi noi dobbiamo trovare dei compromessi che ci permetteranno di lavorare in maniera un po' più veloce. Possiamo andare diciamo anche in questo caso a arrotondare un pochino la selezione e la andiamo anche a sfumare come prima e poi semplicemente possiamo andarci a pennellare innanzitutto all'interno con il colore per renderla un pochino più flat diciamo e poi me la vado un attimo a duplicare così mantengo la scritta qui in basso semplicemente se inverto la selezione posso andare a pennellare con il colore di prima tutta la parte esterna. Ovviamente adesso sto pennellando dappertutto non fa niente perché poi potremo semplicemente andare a mascherare guardate ecco qui la nostra etichetta pulita dobbiamo andare a riprendere ovviamente la scritta cosmetics vi ripeto queste non sono operazioni fondamentali ve le faccio semplicemente vedere perché appunto diciamo mi piace lavorare comunque precisamente. Siamo sicuramente arrivati ad un punto dove guardate sarà difficile andare a selezionare questa scritta sicuramente anche il blend if non ci verrà d'aiuto infatti vedete riesco a prendere la parte centrale che già può essere un buon inizio in questo modo e poi magari o possiamo lavorare manualmente oppure possiamo provare con il seleziona colore ma in questo caso direi di attivare la maschera e vado semplicemente a cancellare praticamente poi la inverto quindi semplicemente pennello sulle lettere vedete quanto ci vuole per fare effettivamente un ritocco fatto per bene molte persone nemmeno sanno cosa c'è dietro una fotografia adesso se lo vado a invertire guardate ho semplicemente il mio testo quindi posso andare o a selezionarlo o in questo caso diciamo mi rimuovo un attimo la maschera e posso andare con lo strumento curve a schiarirlo un pochino guardate in questo modo quindi vedete abbiamo già pulito l'etichetta guardate come è molto molto più contrastata anche il testo in basso ovviamente risulta molto molto meglio quindi guardate abbiamo già migliorato il parecchio il risultato del prodotto stesso cosa ci resta da fare adesso semplicemente nella parte qui in basso possiamo continuare innanzitutto a rimuovere questo segno nell'etichetta non so queste bollicine interne anche possiamo rimuoverle secondo me quindi anche in questo caso un nuovo livello prendo quello che è il pennello miscela colore guardate faccio semplicemente questa operazione questa linea dove qui in basso parte il makeup possiamo a sua volta anche diciamo sfogarla e renderla appunto guardate un pochino più definita appunto questa penso sia un'imperfezione di come è realizzata la boccetta in vetro possiamo sempre ovviamente lavorare semplicemente con una selezione poi stare appunto a pennellare o utilizzare il pennello miscela colori come faccio io quindi guardate in questo modo vedete che abbiamo già pulito tutto il prodotto praticamente ci sono ancora delle macchie qui di makeup eccetera in questo caso siccome abbiamo l'etichetta sul livello separato potremmo stare anche a pennellare al di sotto oppure possiamo utilizzare le frequenze possiamo creare un nuovo livello caricandoci la selezione di base poi semplicemente prendiamo il pennello e andiamo a pennellare lievemente diciamo in questo modo guardate o possiamo usare il pennello collettivo al volo vi faccio vedere che anche questo funziona quindi vedete anche se non vi sto mostrando un flusso di lavoro proprio perfetto il mio scopo è quello di farvi capire che ci sono diversi metodi per lavorare a queste cose schiariamoci anche la parte centrale quindi vedete come già il prodotto risulta essere perfetto vado ad eseguirmi una copia con tutti i livelli sottostante che metto all'interno di un gruppo e siamo pronti a lavorare semplicemente per quanto riguarda adesso il contrasto dell'immagine e andare a scurire un attimino tutto il prodotto quindi posso creare un livello di regolazione curve che leggo al livello sottostante e vado a diciamo spingere leggermente le curve in questo modo abbasso anche leggermente un pochino le alte luci guardate come le rendo più flat inverto la maschera con comando contro lì e poi vado a pennellare con un'opacità bassa non appunto al 100% solo nella parte centrale oppure qui sui bordi e nella parte bassa dove appunto dobbiamo andare a rimuovere questa sorta di alone quindi vedete le curve vanno ad aumentare il contrasto del prodotto stesso cosa possiamo fare adesso siccome voglio dar l'impressione che sia su una sorta di piano possiamo innanzitutto assicurarci che il prodotto quindi finale che vado a crearmi in questo modo sia su una linea appunto perfetta quindi ci creiamo un attimo delle linee guida intorno al prodotto in questo modo lo raddrizziamo correggiamo la prospettiva diciamo facciamo tutte le regolazioni del caso quindi guardate il prodotto è dritto adesso imposto un attimo un ritaglio quadrato che è quello che mi piace appunto di più posso stare qui in alto a rimuovere ancora un po' questo diciamo questa sorta di velatura ovviamente essendo che il tappo è trasparente ci sta io infatti l'ho scattato anche senza tappo perché diciamo rende un po' meglio per questi scatti più creativi quindi cosa facciamo semplicemente andiamo a crearci un nuovo livello dove andiamo ad impostare questo nero magari che arriva possiamo fare anche che tipo arrivi proprio sotto sotto il prodotto però magari impostiamolo un po' più dietro poi dopo semplicemente lo andiamo a spostare dove ci pare piace adesso prendo un gradiente magari bianco e inizio a fare questa cosa avete già visto in passato questa sorta di lavorazione che faccio ai prodotti quindi con questo gradiente dietro ma appunto mi piace davvero tanto quello che è il risultato e semplicemente quindi vedete abbiamo questa sorta di gradiente sul retro che ovviamente si dovrà riflettere anche un pochino sulla parte qui in basso come possiamo fare o portiamo al di sopra tutto il gradiente ci carichiamo poi la selezione della parte in basso andiamo un attimino a mascherare e quindi semplicemente adesso abbiamo una maschera diciamo con quella linea e poi col pennello bianco lo andiamo a riprendere guardate con un'opacità un pochino più bassa o semplicemente poi possiamo andare a lavorare con un gradiente separato quindi vedete abbiamo sì questo piano ma anche questo gradiente che viene un po' riportato sulla parte qui in basso perché appunto se è presente sul retro deve andare anche diciamo a riflettersi un pochino anche nella parte bassa questo gradiente ovviamente l'ho reso bianco ma nulla ci vieta di andare ad applicare un colore al di sopra quale può essere ad esempio il colore del make up stesso così rende tutto un pochino più interessante poi possiamo andare a schiarirlo possiamo renderlo un po più vivace possiamo guardate se lo rendo più vivace comunque fa risaltare un pochino di più il prodotto diamo un ok e poi al di sotto del prodotto invece vado a crearmi una copia di livello comando ctrl j e me lo rifletto verticalmente questo mi va a garantire la creazione di un riflesso quindi guardate porto il livello al di sotto devo andare a far combaciare queste parti qui quindi posso utilizzare lo strumento altera in maniera arcata guardate quindi cerco di seguire un attimino la linea se proprio non dovessi riuscire nulla mi vieta poi di andare ad utilizzare il filtro fluidifica perché appunto c'è bisogno di andare a far combaciare appunto la parte laterale quindi guardate guardate quindi abbiamo un riflesso molto naturale ovviamente opacità non so 30 per cento possiamo impostare un'opacità quindi del genere attiviamo la maschera e con un gradiente lineare con il nero vado a cancellare ovviamente il gradiente deve essere al 100 per cento quindi vedete abbiamo praticamente questa immagine la sovrapposizione colore magari mi sembra troppo accentuata quindi la basso un attimino in questo modo mentre sul prodotto la parte qui in alto si vede che c'è una sorta di bluastro all'interno della parte trasparente quindi vado a crearmi un livello di regolazione di bianco e nero lo leggo a livello sottostante inverto la maschera e vado ad applicarlo solamente diciamo al tappo guardate adesso come risulta essere molto molto più pulito magari anche un po nella parte qui in basso un'opacità del 20 per cento quindi senza esagerare vado ad abbassare un po l'opacità anche perché vogliamo l'effetto guardate lo rendiamo più pulito ma non appunto completamente in bianco e nero potrei stare a scurire un attimino un pochino di più queste alte luci qui in alto vado ad applicarlo su tutta la zona in alto e magari anche sulla zona in basso guardate lo vado a scurire leggermente per renderlo un pochino più diciamo integrante all'interno della scena senza avere troppe luci sparate vado a ritagliare un pochino e guardate ci siamo con l'immagine finale se questa parte in basso non dovesse piacervi nulla vi vieta ovviamente di lasciare il prodotto così sul nero di abbassare un pochino l'opacità guardate giusto rendendolo proprio poco poco visibile quindi giusto per dare un leggero stacco oppure possiamo andare a spostarlo semplicemente più in alto più in basso quindi questa è l'immagine finale bene quindi questo semplicemente era il tutorial passo per passo nel quale vi mostravo come andare a sviluppare una fotografia o meglio ritoccare una fotografia di un prodotto per renderla quanto più pulita possibile se questo video vi è piaciuto io vi invito a lasciare un bel mi piace per supportarmi ed iscrivervi al mio canale mi raccomando commentate anche qui sotto se avete delle domande o dei dubbi o dei suggerimenti per dei futuri video noi ci vediamo in un prossimo appuntamento un saluto da marco ciao a tutti 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 ciao a tutti